Buongiorno, è il 24 maggio del 2019, quando eravamo qui ci siamo salutati pensando di rivederci l'anno successivo, sono passati due anni, comunque ce l'abbiamo fatta, un saluto a tutti che sono qui e anche a tutti che ci guarderanno da casa per la registrazione, buon ascolto a tutti. Dall'album della gioventù di Schumann ti suonerò la povera Orfanegna, il Cavaliere Selvaccio e il Contadino Vandero. Grazie a tutti. 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 Io suonerò la Agavoth e le sei variazioni di Rameau. È una danza, l'ultima danza tratta dalla suite per Clavicembalo in La minore. Grazie a tutti. Successivamente suonerò le parole di Debussy tratte dalla raccolta Estone. Un ascolto. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti.